La parola al Ministro della Bosnia-Herzegovina. Eccellenze, Segretario Generale, Signore e Signore. Innanzitutto vorrei esprimere i saluti del Ministro degli Affari Civili della Bosnia-Herzegovina. È un grande piacere per me essere qui con voi in questo dialogo importante sulla cultura e ringrazio coloro che hanno organizzato questa conferenza, questo evento così significativo. Purtroppo questa conferenza dei Ministri della Cultura si svolge in un'epoca veramente tetra per l'Europa, un'epoca che non lascia indifferente nessuno. Può sembrare difficile concentrarsi sulla cultura, sul patrimonio culturale in questa epoca così travagliata perché naturalmente ci sono innanzitutto le esigenze umanitarie, i bisogni esistenziali, però si potrebbe dire che questa crisi ci deve spingere a concentrarci proprio per onorare le vite, la cultura e il patrimonio che sono attualmente in grande pericolo. Noi abbiamo vissuto la guerra 30 anni fa e vi posso garantire che la guerra può aiutare moltissimo a far guarire un paese. Ci saremmo potuti concentrare in un'epoca più rosea sul turismo, sull'arte, sull'artigianato, l'intelligenza artificiale e invece a causa di queste circostanze globali dobbiamo occuparci soprattutto del ruolo fondamentale che la cultura svolge per sostenere il benessere mentale e spirituale degli individui nella società. rispetto alle conferenze del passato, noi adesso dobbiamo riconfermare il nostro impegno risoluto a preservare i valori europei comuni, valori che sono stati plasmati e costruiti negli ultimi 70 anni, ma valori che hanno le loro radici nei secoli passati. E questo impegno verso il patrimonio e la cultura non solo ci può aiutare a ricostruire i ponti distrutti, ma ci può aiutare a rinfocolare quella cooperazione che ci può portare ad un futuro europeo più luminoso, un futuro in cui la Bosnia-Herzegovina, come Stato che rispetta il principio dell'uguaglianza in tutti i sensi di questo termine, può assumere il proprio ruolo fondamentale come pieno membro dell'Unione Europea, un'Europa in cui possa prosperare la diversità rispetto reciproco, la cooperazione e soprattutto la pace, un'Europa in cui il patrimonio culturale e la cultura sia una risorsa strategica per la democrazia e il multiculturalismo. Conclusione, è stato scritto, se volete distruggere una nazione, distruggete la sua storia, la sua cultura e la sua lingua. Quindi oggi a questa conferenza così prestigiosa, riaffermiamo e rafforziamo il nostro impegno verso la cultura e il patrimonio culturale, di modo che questa distruzione non possa mai più colpire nessuna nazione. Grazie. Grazie.